Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come, 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 come state? Spero veramente bene, dai. Sì, oggi sono qua solo per voi, per fare un video che non faccio da un sacco di tempo, ovvero un video basato sul tapping, però utilizzando le graffette sulle unghie. Secondo me, secondo me usciranno delle cose carine, ma senza dire altro, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e magari potete provare un po' a chiudere gli occhi. Che dite? Secondo me si può fare. Io allora inizio. Parto col dire due cosette velocissime, ovvero voglio augurare, anche se mi ritardo, lo so, un buon mese del Pride a giugno, appunto, a tutti coloro che fanno parte della comunità, diciamo. E questa è la prima cosa, se vi fa piacere, posso fare un video dove utilizzo sei trigger di sei colori diversi della bandiera. Se vi fa piacere, posso farlo. E come seconda cosa, volevo chiedervi se l'otto o il nove giugno voi siete andati a votare. Perché secondo me il voto è qualcosa di veramente importante e posso dire che quest'anno è stata la mia prima volta in assoluto ad aver votato. Infatti sono stato super emozionato, ma senza dire altro, iniziamo. Inizio con un semplice, semplice libro. Questo è quello che sto leggendo attualmente. Secondo me è stupendo come tapping. inizio con tutti colori lover. Inizio con un semplice. Inizio con un semplice. Inizio con un democchio aperto. Inizio con un semplice. Co, non si sto portando. Inizio con un semplice. Inizio con un semplice. Per компставo sono un semplice. grazie a tutti che poi posso chiedervi come state gestendo la situazione meteo perché veramente ci sono giorni in cui fa un caldo assurdo e giorni dove si congela e poi ci ammaliamo tutti che puoi fare? ok, allora ho preso adesso questo portapenne facciamo del tapping ok 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 adesso adesso non sento più le dita immaginiamo dopo ok ma andiamo avanti comunque vi giuro è un botto divertente ho qua una tazza non sento non sento non sento non sento ancora non sento all'CLES non sento è una sentita non sento non sento è un progetto Con la sinistra sono un sacco meno coordinato. Con la sinistra sono un sacco meno coordinato. Ok, allora, sto iniziando ad avere un pochino, pochino, pochino caldo, però, vabbè, dobbiamo resistere. Quindi, prendiamo il prossimo trigger, il prossimo trigger, il prossimo trigger. Ah, come sempre, se per caso avete consigli o vorreste vedere sul mio canale un video che io posso effettivamente registrare, scrivetemelo nei commenti. Adesso ho questo bagno d'occia al cocco. Ok. Ok. Allora, non devo iniziare a sudare, quindi devo cercare di pensare ad altro, però fa giusto un pochino, un pochino, un pochino caldo. Adesso ho qua con me uno dei tantissimi giocattoli che ha il mio cane, in particolare questa pallina. Ok. Mi ero dimenticato di quando effettivamente fosse figa come trigger. Vabbè. Adesso prendo un'altra cosa un po' più grande, la mia agenda, che ormai da un po' è da dare via, perché questa è un'agenda che va da, non mi ricordo se da luglio a luglio, oppure da agosto ad agosto. Ok. 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 Adesso ho tempo per un ultimo, ultimo altro trigger, ovvero il pezzetto di legno. Il pezzetto di legno. Il pezzetto di legno. Ok, allora io credo proprio sia arrivato il momento di dire cu 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 cu. Ora tocca solo, solo, solo a voi. Iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della Ups Community e diventare degli Upsini se siete dei maschietti al contrario delle Upsine se siete delle femminucce. Poi mi raccomando lasciate un like al video, un bel commento se avete un po' di tempo. E il video di oggi finisce qua. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sotto il tasto per andare sul mio canale e vedere tutto quello che vuoi. Io vi mando un grande bacio e buonanotte. 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 Grazie a tutti.